Dischi volanti? Extraterrestri? Ma va là! Come va amici ed amiche? Spero bene per tutti e tutte voi. Per chi segue il canale con attenzione vi ricordo che sul fornitissimo indice alfabetico trovate la ricerca fatta sui giornali storici dove si evince che prima del 1947 non c'è assolutamente nessun riferimento ai dischi volanti o flying saucer nel video postato e del 6 aprile 2022 dal titolo Extraterrestri il prossimo folle piano della elite David Adamovic. Considerato che ancora venite sul canale a postare che esistono antichi testi veda, in questo caso i Vimana, oggi andiamo a sfatare l'ulteriore bufala simile a quella del libro e venne chiamata due cuori. Tutto inventato! E' spiegato nel video l'immoralità nel nostro sistema, ovvero la pazzia morale, a scapito di chi ha speso soldini per acquistare libri come Vimanika Shastra, l'antico libro delle navi volanti. Avevo fatto anche il video che spiega in modo scientifico l'assurdità di qualsiasi radar sintetico al quale accedete sempre attraverso l'indice alfabetico sotto la voce radar sintetico, vi hanno fatto credere. Torniamo ai Viamana. Se facciamo ricerche sui vecchi giornali fino al 1963, come faccio solitamente per le mie ricerche, non appare assolutamente nessuna voce e nessun riferimento e già questo la dice lunga. Vi hanno ingannato sulla forma della terra e vi stanno ingannando su un sacco di altre cose per tenervi occupati a credere e sapete che credere è nemico di conoscere. Cercate da soli, da sole perché io l'ho fatto e riporto quanto ho trovato. Il Vaimanika Shastra o scienza dell'aeronautica, perché questa è la traduzione corretta, è un testo in sanscrito del XX secolo. Afferma che i Vimana menzionati negli antichi poemi epici sanscriti erano veicoli volanti aerodinamici avanzati. L'esistenza del testo fu rivelata per la prima volta nel 1952. Sarà un caso che le cose appaiono sempre in quel lasso di tempo da G. R. Joyzer, il quale affermò che era stato scritto da Pandit Subharaya Shastri, 1866-1940, che lo dettò negli anni 1918-1923. Una traduzione in indi fu pubblicata nel 1959, mentre il testo sanscrito con una traduzione in inglese fu pubblicato nel 1973. Contiene 3000 shloha, in otto capitoli che Shastri sosteneva gli fossero stati consegnati psichicamente dall'antico saggio hindu Bharadvaya. E ovviamente il testo ha guadagnato il favore tra i sostenitori degli antichi astronauti. Uno studio condotto da ricercatori di ingegneria aeronautica e meccanica presso l'Indian Institute of Science, Bangalore, nel 1974, concluse che gli aerei descritti nel testo erano intrugli scadenti e che l'autore mostrava una completa mancanza di comprensione dell'aeronautica. Per quanto riguarda il Rukma Vimana, lo studio osserva, se si intende per mestiere ciò che dicono i disegni e il testo, si può affermare che il mestiere è decisamente impossibile. Sapete perché continuate a credere negli extraterrestri? Semplicemente perché accettate tutto quello che oltre ad inseminare nei cieli, fate crescere dentro di voi con quello che continuano ad inseminarvi nella mente, con le news, i device e le televisioni, da cui non vi siete ancora disintossicati. Buone cose a tutti e tutte! Dino!